Un programma presentato da Metalfly, componenti in ferro per il mobile Soluzioni software e servizi cloud per aziende e studi professionali Metasistemi, il vostro partner sistemi di zona Fano Computer, da più di 20 anni al vostro servizio Via Fraghetto 8, Fano CSI Fano, da oltre 80 anni è lo sport a Fano e provincia Lo sport non si improvvisa Francesco Gomme e Servizi, qualità ed esperienza al tuo servizio Via Giovanni Agnelli 6, uscita Superstrada Lucrezia Agenzia Generale Unipolsai, Aniballi Associati Sede di Fano, in via delle Querce 11, zona ex Zuccherificio Sede di Pesaro, in via Mameli 72, centro direzionale Benelli Buonasera e ben ritrovati a Sportissimo, il settimanale di Fano TV dedicato allo sport del territorio Comincia stasera la terza stagione e nel ringraziarvi per l'attenzione che ci Il trionfo della Smart System nel campionato di A3, la riconquista dell'A2 dopo più di vent'anni E appena adesso alle spalle l'esordio in A2 Di cui tratteremo con Vincenzo Mastrangelo, allenatore della squadra Virtussina Buonasera e bentornato Grazie, buonasera a tutti E con Mattia Raffa, libero della Smart System Essence Hotels Anche per lui, il bentornato Grazie Dicevamo di un esordio che naturalmente tutti confidavano potesse essere più produttivo Ma si giocava a Ravenna, su un campo tra l'altro che grunda storia Contro un avversario direi attrezzato per svolgere anche quest'anno un ruolo importante in categoria La Smart System se l'è giocata, perché non si può dire che non se la sia giocata Però purtroppo non se l'è giocata al meglio Ha sprecato le occasioni che ha avuto a disposizione E Ravenna, che ha mostrato più continuità e più solidità, ha avuto la meglio Può essere questa la fotografia della partita Mastrangelo? Decisamente sì Scendendo in qualche dettaglio proprio la palla a vuolo Abbiamo sbagliato troppo In attacco, sicuramente tanto Sia in cambio palla che in contraattacco Siamo stati molto più bassi di loro Set persi a 20-22 Basterebbero due palloni messi giù Sarebbero due punti in meno, due punti in più E staremmo parlando di una partita ancora più punto a punto Più vicina tra le due squadre Invece è venuta fuori questa partita Era la prima Sappiamo fuori casa In casa da loro In un palazzetto un po' particolare per noi Perché è un palazzetto enorme Quindi sono tante cose che hanno permesso a Ravenna di giocare, di giocare bene Anche noi gli abbiamo permesso di giocare bene Perché diversamente da tutto il precampionato Dove il fondamentale del muro è sempre stato un fondamentale importante per noi Numericamente proprio a livello di punti diretti E loro ne hanno fatti sette E noi ne abbiamo fatti solo tre Quindi alla fine battuta e ricezione è stata abbastanza simile La partita e la differenza Ha fatto muro difesa e contraattacco Nelle azioni lunghe Dove ne abbiamo avute tante Ma non voglio esagerare dicendo tutte Ma quasi tutte siamo vicini al tutte Andavano a finire a favore loro Quindi bravi loro Sono stati veramente bravi Perché in 3-7 hanno sbagliato solo 5 palloni Però ci sta E la prima Adesso già abbiamo il nostro focus indirizzato a domenica E avremo modo di parlarne tra poco Possiamo intanto far scorrere le immagini della gara del Pala de Andrè Avevate a che fare Mattia con un avversario giovane Però c'è giovane e giovane E quelli di Ravenna sono abituati alla 2 E anche in questa partita d'esordio Hanno dimostrato grande confidenza Sì, giovani però diciamo tutti con esperienza già in questo campionato E anche superiori si è visto E penso che siano stati più cinici Più continui nei momenti importanti E clou di tutti i 3-7 E in tutti e 3-7 In particolare nel secondo che è sembrato sostanzialmente più equilibrato Sono state serie al servizio di Radenna a spezzare questo equilibrio Sì, serie ma non proprio il servizio in sé Perché alla fine abbiamo subito e fatto 4 ace Più due mezzi punti diretti Entrambe le squadre Quindi alla fine non è stato mai proprio il fondamentale del servizio È stato quello che è avvenuto dopo Il fondamentale del servizio Quando noi siamo riusciti a mettere in difficoltà E quindi staccandogli molto la palla da rete Poi loro sono stati molto più bravi di noi A risolvere, trovare soluzioni E vincere quelli scambi Anche partendo da una ricezione molto staccata da rete Cosa che noi abbiamo fatto più fatica Ed è lì la chiave È chiaro che ci lavoriamo L'aspetto più appariscente Che comunque è balzato agli occhi È che gli scambi prolungati Anche quelli meno ortodossi dal punto di vista stilistico Siano andati sistematicamente a vantaggio di Ravenna Cosa c'è dietro questo aspetto? Sì, io non ci avevo fatto caso durante la partita Però se ci penso è così Come ho detto prima Penso che nelle azioni lunghe I giocatori più cinici o più esperti Dimostrano le qualità in più che hanno O fanno vedere le qualità che hanno E penso che questo qua è mancato a noi Un po' a respirare in momenti difficili Anche un po' di pazienza Di pazienza, esatto Non pensare a chiudere subito le azioni Ma provare a allungarle Però i dati dimostrano che Più sono state lunghe e più loro hanno fatto punto Quindi alla fine hanno avuto meglio loro Anche da questo punto di vista Tutto sommato credo che il fondamentale Che sia stato più redditizio Comunque più continuo nell'arco della partita Sia stato l'attacco È così Mastrangelo? Sì e no Un po' di cambio palla in più Siamo stati un po' più vicini a loro Contra attacco è stato Proprio deficitare Sì hai messo l'accento su questo 4% Dei primi due set Che dice tutto Difficile vincere partite così Se poi non fai tanta differenza Numericamente col servizio E con il muro Col servizio siamo stati riusciti A stare alla pari con loro Probabilmente sarebbe bastato Far 4 muri in più E saremmo stati molto più vicini Quindi portare loro a giocare Sul 23 pari Il 22 Il 23 pari Invece li abbiamo sempre Un po' Fatti andare via Di due punti Tre punti Sempre con La possibilità di sbagliare Di poter far andare il braccio Senza quella tensione Giusta di quei momenti Che ti danno Ti dà il punto a punto Credevo Prima di andare a Ravenna Credevo Di riuscire a portare la squadra In quella situazione Poi Giocarmi I soliti punti decisivi Un po' Facendo scelte Facendo qualcos'altro Rischiando qualche cosina Col servizio in più Questa era L'idea di partita Che mi ero fatto io Studiando Ravenna Non ci siamo riusciti E bravi loro Perché comunque Dobbiamo riconoscere Che lo sport è fatto di Due squadre Che vogliono ottenere La stessa cosa Ma che la Attiene solo uno Quindi Il sorrito va così Più bravi di noi Sono stati bravi Quindi bisogna fare Complimenti a loro E capire cosa non è andato Cercare di Migliorare nel più breve Sempre possibile Alcune cose che non sono andate O riportarle Dove eravamo arrivati Fino a una settimana prima Per dirci O due settimane prima Quindi non è che Lo sport è così E poi magari con loro Con i loro centimetri Perché è una squadra Tranne il palleggiatore È una squadra Praticamente tutti i due metri E oltre Con fisicità Di giocatori che sono stati Anche in Superlega Anche in squadre importanti E si è vista un po' La fisicità nel muro Nel toccarci i palloni Sporcarci i palloni Nel difendere Portarci a riattaccare ancora E lì come ha detto Raffa Ci manca la pazienza Dentro questo esordio Comunque amaro Perché quando si perde 3 a 0 L'amarezza c'è Si può scovare anche Il fattore dell'emozione Dell'impatto Con un nuovo campionato Oppure È un elemento Da trascurare Perché di pallavolo Comunque ne avete giocata Tanta In qualche caso Tantissima Anche voi Sì Però Comunque l'emozione Fa sempre Il suo effetto La prima partita di campionato In A2 Dopo Essere Stati promossi l'anno prima Comunque è sempre un'emozione Però Una cosa positiva Che posso dire Della mia squadra Penso che In ogni set Siamo stati lì Non abbiamo mai mollato E dopo due set Siamo comunque Rimasti lì Abbiamo provato a lottare Fino all'ultimo pallone Anche se poi Poi è andata così Quindi Da quel punto di vista Per me Mentalmente Siamo stati lì Altre immagini Della gara del Pala De Andrè Riprese Dal piano Dei giocatori Anche Prima della partita A proposito Di emozione Credo vi abbia fatto Piacere Mastrangelo Ritrovare subito La vostra gente Anche in trasferta 150 tifosi Al seguito Che non hanno Mancato Di assicurare Il loro Caloroso incitamento Ma i nostri tifosi Sono secondo me Straordinari Già dall'anno scorso Sono stati molto bravi A seguirci A sostenerci Dentro Fuori Ogni volta Che per loro È stato possibile Star vicino Alla squadra Sono stati L'hanno fatto Già da subito Domenica Erano più di 150 Credo Nel palazzetto Lì a Ravenna Si sono fatti sentire Mi dispiace un po' Anche per loro Per il risultato Perché sarebbe stato bello Iniziare Lottando un po' di più Nel senso Non che non abbiamo lottato Perché come ha detto Raffa Siamo stati sotto Quasi sempre Anche di 5 punti Li abbiamo ripresi 2-3 volte In ogni set Siamo arrivati almeno uno Bastavano una palla 2-3 volte E avremmo riportato La partita Il set Punto a punto Non ci siamo riusciti C'è sempre mancato Quel passettino in più Quello slancio in più E basta Però Sono contento Di averli rivisti Già ogni tanto Qualcuno passa Il palazzetto È importante E li aspettiamo Sicuramente domenica Dove c'è un derby Quindi c'è una partita importante Una partita Tra virgolette Con una squadra Che dovrebbe Insieme a noi E un altro bel gruppo Di squadre Lottare per Confermare la categoria Ne ho promossa anche loro Quindi domenica È una gran bella partita Sotto ogni punto di vista Vediamo cos'è successo In questa prima giornata In cui mi pare Che le favorite Si siano fatte tutte Rispettare A parte forse Brescia Ma Cunio Non è certamente Da sottovalutare Si è imposta Al tie break AC Castello Che tradotto Significa Catania È passata Sul campo Di Palmi Anche per quello Che riguarda Siena Direi Un successo Piuttosto Netto In questa gara Di esordio Classifica Che si fa presto A definire La luce Dei risultati Di questo primo turno Con le squadre Che hanno vinto Con il massimo scarto A tre punti Cunio a due Brescia ad uno Tutte le altre a zero Comprese appunto Smart System SS Hotels E Macerata Derby subito Per la gara Desordio in casa Domenica prossima Macerata A sua volta Direi abbastanza Profondamente Rinnovata Con un ex Come Ferri Con un giocatore Croato Annunciato in pompa magna Nel corso dell'estate Che ha dei problemi Fisici Che avversario è Dal punto di vista Tecnico E anche Mentale Per così dire Sono tutte partite Diffici Questo è un campionato Che sarà così Fino all'ultima giornata Non ci sarà mai Uno scontro Per nessuno Anche per Catania Per Per Ravenna stessa Siena Brescia Che è stata una partita Un po' tra i incerottati Perché A Brescia Mancava un po' Mancato il palleggiatore Tiberti A Cunio manca Pinali Quindi c'è C'è ancora Sono delle squadre Che si stanno ancora Mettendo insieme Con dei problemi Macerata Praticamente tutto Precampionato Andric Non ha mai giocato Ha giocato Mezzo set Probabilmente un set Fino ad adesso Con grossi problemi fisici Vediamo se fino a domenica prossima Riuscirà A recuperare Giocare Altrimenti Dovremmo essere bravi A preparare la partita Praticamente con quello Che hanno fatto Tutto il precampionato Perché ci abbiamo Tutto il precampionato Oggi che hanno giocato Senza Andric Un po' come hanno fatto Cunio con Brescia Che ha preparato Tutto senza Di Berti Perché quasi tutto Il precampionato È saltato Sono momenti Della stagione Dove bisogna Stare insieme Stringersi intorno Ai problemi Non farseli pesare Più di tanto Avere la pazienza Di aspettare Tra virgolette Momenti migliori Sia individuali Che poi comunque Di squadra Perché Fare il salto Dalla 3 Dalla 2 Dalla 2 La Superlega Ancora di più È impossibile Farlo senza Cambiare Quasi tutta la squadra Cioè E in effetti Questo è un altro Ulteriore aspetto Da considerare Profondamente rinnovata Macerata Profondamente rinnovata Fano Ma hanno cambiato Tanto anche Molte altre squadre Per cui Una ragione in più Per aspettare Un po' di tempo Per definire La gerarchia Dei valori vera Sì Ci vuole tempo Come sempre Le prime partite Del campionato Sono un po' di rodaggio Anche derivanti Dalla preparazione Quindi anche fisicamente Magari ci sono vari Infortuni Anche la distribuzione Dei carichi Può essere diversa Esattamente Va anche In base anche A che campionato Ti si presenta di fronte Le giornate Chi più Più semplici Chi più difficili Sono convinto Che Già da metà novembre Fine novembre Si Rindirizzerà In un certo modo Già il campionato Diciamo che già A Macerata Siamo tutte e due Abbiamo perso la prima Quindi già Già da lì Si vedrà Chi ne avrà di più Sendo entrambe neopromosse Tornando ai tifosi Devono giocare Pure loro Questo campionato Perché Il fattore Palace Allende Dovrà pesare Nell'economia Di questo torneo Ma dobbiamo farlo pesare Il nostro palazzetto È un palazzetto particolare Non è semplice giocare Come non è stato semplice Per noi Giocare a Ravenna In un palazzetto immenso Bisogna essere un po' abituati A starci dentro Perché Le luci Il tetto Quei teli Che ci sono Sul tetto I tifosi Praticamente Quasi in campo In campo Pieno Ma l'aspetto pieno Né più né meno Come abbiamo chiuso L'anno scorso A fine stagione Perché Dopo tanti anni Si è tornati In A2 Quindi Credo Che la città Abbia tanta voglia Di venire a vedere Una pallavolo Ancora più bella Rispetto a quella Dell'anno scorso Vani adesso Che spingono Spingono il livello Verso l'alto Niente Noi dovremmo essere bravi A sempre partita Partita Giorno dopo giorno Migliorarci Fare le cose Che Fino ad adesso Inizio a vedere Durante l'allenamento Tante volte Che invece Non siamo riusciti A tenerle vive Durante la partita Con Ravenna Però Ci sta Prima in casa Tanto pubblico Tanta voglia Di fare bene Tenere a freno Un po' quella voglia Perché delle volte Tanta voglia Si traduce in foga In foga Prenesia 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 Quindi dovrò essere bravo Durante la settimana A focalizzare Le cose Sulle cose che contano Sulle cose Che secondo me Faranno differenza domenica E aggrapparci a quelle cose Quando un po' la frenesia Un po' la tensione Un po' tutto Ci porterà magari A qualche errore Che non ci aspettavamo Ma dobbiamo essere pronti Perché l'unico modo Per giocare A questo livello È essere pronti Alle difficoltà Perché le difficoltà Più sale il livello Più l'avversario È in grado Di metterti in difficoltà Quindi noi dobbiamo Trovare soluzioni Prima già Pensarle prima Di iniziare la partita Dimostrazione concreta Dell'affetto Che vi circonda Si è avuta anche In occasione Della presentazione In una cornice Assolutamente inusuale Per lo sport Quella del teatro Alle spalle Fatta anche di personaggi Che hanno dato lustro Alla pallavolo In Italia e nel mondo Mattia Si è stato È suggestiva Come presentazione Il teatro molto bello Non c'era mai stato È una presentazione Che racconta proprio La storia della società Quindi ci siamo un po' Immersi in tutti questi anni Di 60 anni Di vissuto di questa società Delle varie fasi Che ha avuto E quindi c'è tanto C'è tanta voglia Di far bene Ma anche da parte nostra Di giocatori E anche magari Un senso di responsabilità Esatto Da parte nostra Noi giocatori Abbiamo voglia Di far bene Di mostrare Che siamo qua Per far bene Per noi E per la società E per la città di Fano Grazie a Mattia Raffa Libero della Smart System Essence Hotels Grazie a Vincenzo Mastrangelo Grazie a voi Della squadra Virtussina Noi torniamo fra qualche istante Periodo decisamente turbolento Quello che sta vivendo Il calcio fanese Un periodo di cui Non si vede ancora la fine Un raggio di sole È stato portato Nell'arco di un'estate Che dal punto di vista calcistico È stata estremamente difficile È venuto dalla costituzione Del consorzio Fano Sport Che poi ha originato La nascita del Fano Calcio Che sta partecipando Al campionato di terza categoria Dove ha debutato Nell'ultimo fine settimana Del consorzio Fano Sport E delle prospettive Del calcio Fano Ma più in generale Del contributo Che il consorzio vuole portare Alla causa dello sport fanese Parleremo con il presidente Del consorzio Paolo Petrucci Buonasera e benvenuto Buonasera E con Alessandro Giuliani Vicepresidente Buonasera e benvenuto anche a lui Partiamo da Dove tutto è nato E come tutto è nato Chi vi ha in qualche modo Chiamato E come vi siete messi assieme Petrucci Ci ha chiamato Il sessore sport Santorelli Insieme al sindaco Ci ha chiesto Di dare una mano Al Fano Calcio E abbiamo creato Questo Fano Sport Siamo di sotto 18 imprese 18 soci Presto ne arriveranno Altre 4-5 E abbiamo preso l'impegno Per tre anni Di sponsorizzare Per l'80% Al Fano Calcio E il 20% Per altre attività sportive E siamo partiti così Eravamo C'erano un po' Illusi di partire In promozione Un'eccellenza Invece purtroppo Ci hanno condannato A partire Terza categoria Stiamo lavorando Per trovare Qualche soluzione Per salire Di categoria Adesso pian piano Vediamo Stiamo facendo Tutto il possibile Avete incontrato Due grossi problemi Il poco tempo A disposizione Per cominciare Perché il consorzio È nato Tra luglio Ed agosto E in secondo ordine Un sistema calcio Che definiamo Per così dire Difettoso Fondato su regole Molto spesso interpretabili In campo E fuori E dove Probabilmente All'interno di queste regole C'è chi si sa muovere Magari Con più disinvoltura E chi con meno Da questo punto di vista Giuliani Avete qualche Recriminazione da fare Per come Vi siete mossi In quelle settimane In cui Da una parte C'era la pratica Dell'iscrizione Dell'Alma Juventus Di Salvatore Guida Dall'altra appunto Nasceva il Fano Calcio Che aspirava Non dico a subentrare Ad una società La cui pratica Di iscrizione Comunque Era stata In qualche modo Avvallata Ma comunque A ricevere Un'attenzione Degna Di una società Che rappresentava Quel punto Fano Perché comunque L'Alma Juventus Fano Di fatto Da Fano Era stata In qualche modo Sloggiata Beh sì Abbiamo fatto Un accorso contro il tempo Innanzitutto Per costituire il consorzio E di conseguenza Poi il Fano Calcio Che sono due Società Distinte Ovviamente Abbiamo preparato Tutta la documentazione Per la FGC E ci attendevamo Dalla federazione Regionale E nazionale Quanto meno Un'ammissione Alle categorie Che diceva il presidente Ovviamente Abbiamo trascinato Questa cosa Fino a settembre Perché le riunioni Erano a settembre Nel frattempo Era partita La preparazione atletica Quindi anche il discorso Della preparazione Ci ha slungato Fino a settembre A squadre già fatte Per cui ci siamo trovati In terza categoria Ovviamente Siamo andati avanti Lo stesso Abbiamo I ragazzi Iniziato a fare La preparazione E molto umilmente Ci siamo messi Grazie al Fano Calcio A A fare la terza categoria E facciamo il nostro Campionato Ovviamente La terza categoria Non è quello Che vi aspettavate Non è quello Che si aspettava La gente Ne è il caso Di mettere Nel mirino La promozione In seconda categoria Perché ci si aspetta L'anno prossimo Qualcosa di diverso In questo senso All'interno del sistema Che dicevamo C'è un'opportunità Quella offerta Dalle fusioni Anche con realtà Di fuori provincia A patto che Siano confinanti State già Perlustrando Questo orizzonte Stiamo già dialogando Con alcune situazioni Un paio di situazioni Ovviamente Stiamo già preparando Il terreno Per il Fano Calcio Della prossima stagione Adesso continuiamo Ovviamente A fare il nostro Campionato In terza categoria All'interno del consorzio Come è stata vissuta Questa situazione Cioè ripartire Dal gradino Più basso Siamo rimasti Un po' delusi Perché speravamo Di partire Quanto meno In promozione Ci eravamo organizzati Per quello Anche la squadra È stato Abbiamo lavorato Convinti Che si partiva Dalla promozione Se non dall'eccellenza Invece Siamo ritrovati All'ultimo momento In terza categoria Pazienza Comunque stiamo lavorando Per fare qualche Diciamo Per salire di categoria In qualche modo Una terza categoria Che è stata impostata Come se non fosse Però una terza categoria In questo senso Al di là del fatto Che vincere il campionato Farebbe una differenza relativa Avete voluto dare Un segnale Di credibilità Di mentalità Di serietà Allestendo una squadra Anche con nomi Di un certo prestigio E che lavora Come una spara Di categoria Superiore Assolutamente sì Abbiamo investito Molto sui giocatori Sul team Della squadra Sull'allenatore Per cui siamo assolutamente soddisfatti È una squadra Da una categoria Ovviamente superiore Non da terza categoria Cosa vi aspettate Dalla tifoseria Che in questo momento È un pochino Divisa In difficoltà Nel senso Che si è anche Un po' spaccata C'è chi continua A seguire l'alma di Guida C'è chi si è legata Già al Fano Calcio C'è chi comunque Vi ha anche invitato E a questo riguardo Magari è il caso Di fare chiarezza A imbastire una trattativa Con l'alma Giuventus Fano Di Salvatore Guida Petrucci Ma noi ci siamo visti Con i tifosi Abbiamo fatto un'assemblea Abbiamo invitato i tifosi E certo Noi stiamo lavorando Per salire di categoria Adesso vediamo La soluzione migliore Che possiamo trovare Io In quella sera Ho portato una foto Del 2000 Quando siamo saliti In C Gli ho detto Io l'ho lasciata qui E la vorrei riportare qui Se possibile Però partendo Dalla tese Catoria La cosa è impossibile Però cerchiamo di lavorare Di associarsi Come diceva lei prima Per poter Il prossimo anno Di fare un campionato diverso E riguardo Abbiamo strutturato Tutto quanto Per partire bene Siamo partiti Adesso in terza categoria Ma come diceva Alessandro Abbiamo L'abbiamo impostata Come se fosse Una squadra Diciamo Di promozione D'eccellenza Dal massaggiatore Fisioterapista Tutto quello che serve Diciamo per Ci stiamo preparando Speriamo di riuscirci Perché poi Parlando con un costruttore Per tirare su un palazzo Ci vogliono delle fondamente È vero Ci vuole tempo Ci vuole un anno e mezzo Per la concessione No no ma Ci stiamo lavorando Comunque Mi fa piacere Essere in questo consorzio Perché sono tutte persone Conosciute persone Bravissime Che non conoscevo Stiamo andando Di d'accordo E perciò Anche bello Quello che abbiamo fatto Oltre il fanno calcio Che ci siamo promessi Di dare L'80% Il 20% L'abbiamo riservato Per altri sport minori In questo senso Vi sono arrivate richieste Da parte di società Che pratica un'altra disciplina Anche interpretato male Perché magari Qualche associazione Ci chiede La tribuna La norma Endic Queste Si non rivolge Al comune Noi abbiamo pensato Di fare Non so Un'idea Di fare Un paio di borse di studio Per i ragazzi Che hanno l'ISE Le famiglie L'ISE No Redditi bassi Redditi bassi Con indirizzi ISEF Si Per fargli Non so Tre anni Quello che serve Per diplomarsi E Vedere Anche i ragazzi Minoambienti Le famiglie Minoambienti Anche per l'iscrizione Alla scuola calcio Magari Di non fargli pagare La pagare Del consorzio C'è Ci sono Delle Iniziative Dei ragazzi Diversamente abili Diciamo Che hanno Delle squadre Finanziare Queste cosine Qui Molto lavorare Molto sul sociale Adesso le stiamo guardando Perché ci sono arrivate Una serie di richieste Ebbè Quando uno si rende disponibile Poi è normale E' giusto E' giusto Che sono tutti imprenditori Che chi ha bisogno a mano E sono in tanti Si faccia L'orientamento È quello di dirigersi Nel sociale Poi giovedì Abbiamo il CDA Per cui stabiliremo Esattamente Quelle che sono Le nostre iniziative Che porteremo Per lo sport fanese Dovremmo studiare Un criterio Non è facile Comunque Perché tutti chiedono Vediamo Riguardo a questa Teorica possibilità Di allacciare Una trattativa Con l'Alma Juventus Fano Di Salvatore Guida Cosa potete dire Ma tutto Tutto è possibile Dipende Bisogna vedere Prima i conti Chiari Precisi Perché uno sforzo Si può anche fare Dipende Dai conti Però bisogna vedere I conti bene E quello è un argomento Mi pare scivoloso Sì Abbastanza Sarebbe una bella cosa Riuscire a sistemarla Anche il titolo All'inizio Non siamo partiti Con l'idea Di piano A Piano B Abbiamo votato Tutto il piano B Perché Non si capiva bene I conti Non si sa Non lo so Io poi Nostro signore Non lo conosco neanche Non so Però Visto i comportamenti Così Bisogna poi essere realisti In questo momento L'Alma Juventus Fano Sta partecipando Al campionato di eccellenza Con risultati Molto negativi Ultima in classifica Quindi La prospettiva è quella Di ritrovarsi un'Alma Juventus Fano Qualora riesca a proseguire La propria attività In promozione La prospettiva Credo Di intavolare una trattativa Con una società di promozione E comunque Un carico di debiti Non abbiamo Per le mani La cifra esatta Però era stato nostro ospite Guida in passato E già allora Era lui stesso Ad ammettere L'esistenza Di una esposizione Piuttosto significativa Ad essere peggiorata Ovviamente Viene da pensare Che sia così E quindi questo rende appunto Il discorso Molto problematico Penso E anche la vostra Valutazione Poi Oltre i debiti Volevano anche Una certa cifra Per riuscire Per lasciare la squadra Quindi il contatto c'è stato E avete Sì qualcuno c'è stato Non l'abbiamo fatto Noi E' che noi da imprenditori Siamo abituati a controllare i bilanci E guardare i debiti Soprattutto E quando prendiamo qualcosa Lo valutiamo attentamente Quindi Di fronte a una scelta Di debiti certi Siamo rimasti un po' Perplessi E quindi abbiamo scelto La soluzione B Poi Questo non vuol dire Che possiamo anche In futuro Intavolare In una discussione Con il signor Guida E valutare Se ci sono Le opportunità Sì Anche perché All'inizio ci avevano promesso Quasi per certo Sta promozione O eccellenza Invece Così non è stato Comunque Chiaramente c'è da tenere presente Anche un discorso affettivo L'Arma Juventusano 1906 Ha una storia Pluri Più che secolare Per cui E' comprensibile Anche l'atteggiamento Di quei tifosi Che sognerebbero Che il consorzio Fano Sport Acquisisca L'Arma Juventusano 1906 Poi bisogna Ripeto Fare i conti E conti E' il termine Credo più indicato Con La realtà Ma i tifosi Noi li comprendiamo Nel senso che Vorrebbero vedere Una squadra Che sia in promozione In eccellenza Lo capiamo Loro sono dalla nostra parte Ovviamente Almeno quando sono venuti In assemblea Anzi auspicavano Un consorzio Di tante aziende Che potesse dare Un contributo Questo Nel nostro obiettivo E' quello di Raggiungere questi livelli A livello calcistico Ma senza poi Tralasciare Gli altri sport Che comunque Vogliamo seguire E migliorare Anche perché Esauriamo il discorso Del subentro Nella conduzione Dell'arma di Vento Sano 1906 Il rischio è Di esporsi Finanziariamente Per coprire un debito E non avere poi Le risorse necessarie Per raggiungere Quegli obiettivi Che invece vi ponete Certo Però noi siamo Aperti a tutto Adesso vediamo Stiamo lavorando Per raggiungere Diciamo Per salire di categoria Vediamo Associarsi con Vediamo quello che Siamo aperti a tutto Pur di salire Il più primo possibile Il Consorzio Fano Sport È nato Dietro questa Difficoltà del calcio Che però È rappresentato Un fatto veramente nuovo Sì È sempre stato più difficile Negli anni Che imprenditori Locali Assumessero la responsabilità Di società sportive In particolare L'Alma Juventus Fano Però non si era mai visto Che si alleassero Tanti imprenditori In nome della stessa causa E questo è un elemento nuovo E credete che sia anche Il punto di forza Di questa esperienza? Assolutamente sì Assolutamente sì È la nostra forza Ripeto Nei nostri obiettivi C'è quello di dare supporto Non solo al calcio Il calcio diciamo È quello che ha Maggiore necessità Per quello che abbiamo Stabilito È una regola dell'80 e 20 Non dimentichiamoci Degli sport secondari Ma anche della pallavolo La stessa pallavolo Che è in A2 E che è rappresentata All'interno del Consorio Che è rappresentata È un nostro socio Emilia Cenerini Il presidente Per cui daremo Anche una mano A questa eccellenza Dello sport fanese Che porta in giro La squadra in tutta Italia Specie in questa stagione In cui magari Lo sforzo per il calcio È un pochino più contenuto Rispetto a quello Che ci si immaginava Di dover profondere È il ragionamento Che abbiamo fatto Il Consorzio Allinea al momento 18 imprenditori Ha un respiro Al momento triennale Ma c'è davvero La possibilità Che questo Consorzio Diventi una realtà Consolidata Nel tempo Certo Sì Noi adesso Dovrebbero entrare Altri 5 soci Da 18 Passiamo a 23 Sì È anche più facile Gestire Una cosa del genere Perché Adesso per fare Un campionato Di eccellenza O di Di ci Ci vuole tantissimi soldi Un gruppo di 24 25 persone Bene o male Ognuno di noi C'è un'attività Si trova anche qualche altro sponsor Che fanno parte della nostra attività È sostenibile per tutti Se no Prendere come era in passato Una persona o due Poi E rimane difficile Ci stanca di solito Sì no Perché dopo ci vogliono Precchi soldini Risorse importanti Perché il calcio Professionistico E non solo Impone Questo tipo Di impegno Ora Il problema Può essere Anche di convivenza Perché si sa Non tutti ragionano Allo stesso modo Per il momento Mi pare di capire Si viaggi All'unisono Ma avete messo in conto Anche divergenze Di vedute Di qui Al medio termine Al medio lungo termine Ma devo dire la verità All'inizio Ovviamente Sono 18 teste Che si devono mettere d'accordo Ci siamo dati delle regole Che abbiamo messo in atto Con un regolamento Per cui abbiamo messo Delle regole Fisse Per cui Sappiamo il funzionamento È stato nominato Un CDA Che diciamo Di cui Paolo è presidente Io vicepresidente Con altre 5 persone Per cui prendiamo Le decisioni E poi Quando è necessario Coinvolgere anche L'assemblea Coinvolgiamo anche Tutti i soci Prendiamo le decisioni All'unanimità Sì Il fanno calcio Abbiamo poi Nominato il fanno calcio Dove c'è il presidente Tutta la vicepresidente E compagnia E Ci hanno presentato Il budget Che gli serve Per quest'anno L'abbiamo provato Andiamo d'accordo Per ora Non c'è nessun problema Per il momento Il treno viaggio Anzi Come diceva Paolo È un'occasione per noi Di fare squadra In tutti i sensi Anche come aziende Sono tutte aziende locali Ad acquisire magari Delle esperienze in più Assolutamente sì Paolo Petrucci faceva Prima riferimento Ad una stagione Del calcio Granata Gloriosa Con una promozione In C L'anno dopo Confronti anche Ad alto livello Con la sciente fiorentina Di De La Valle Stagione quella successiva Un po' turbolenta Però alla fine Coronata Nella salvezza Ma resta impressa Invece quella stagione In Serie D Dominata Con un attacco Straordinario Marcucci Roncarati Consorte Che ricordi Petrucci? Marcucci ha fatto Più di 20 gol Sulla fascia E' eccezionale Quando gli passano È una cosa È stata bella Bellissimo Anche con Il grande allenatore Che poi era Qualche volta Un pochino in ruento Però è stato Gianluca Gaudelli Gianluca sì Bravissimo per suo È stata una bella esperienza È stata una cosa Ecco sarebbe bello Ritornare Che poi prima eravamo Allora eravamo 10 associati Adesso siamo Più del doppio Si potrebbe fare Ancora meglio Però allora Facevate riferimento Diciamo ad un settore Quello delle costruzioni Essenzialmente Mi pare che Il Consorzio Fanno Sport Esprima le iniziative Imprenditoriali Più diverse Dai servizi Alle costruzioni Alla tecnologia A software Sono un po' tutti Un po' differenziati Un po' tutti sì Bene Meglio Ci riserviamo Naturalmente Di approfondire Il discorso Più avanti Perché il discorso Va sviluppato Nel frattempo Grazie a Paolo Petrucci Presidente del Consorzio Fanno Sport E al suo vicepresidente Alessandro Giuliani Noi torniamo fra qualche attimo Non vogliamo cedere alla superstizione Ma le prime due stagioni Ma le prime due stagioni di Sportissimo Si erano aperte Ospitando il rugby E allora La tradizione Mettiamola così Ci imponeva Di ospitare nuovamente Il Fanno Rugby Stasera Accogliendo Di nuovo Il presidente Dell'SPG TechFam Fanno Rugby Giorgio Brunacci Buonasera Bentornato E il direttore sportivo Del club Franco Tonelli Buonasera Benvenuto nel suo caso Sia alla vigilia Di una nuova stagione Che nasce Con tutta una serie Di novità E anche interrogativi Mettiamola così Sabato Il via Il campionato di Serie B Si viene Da un'esperienza Fantastica Anche se non A lietissimo fine Come quella del campionato scorso In cui avete sferato la promozione Ora In linea di massima Quando una squadra L'anno prima Arriva vicino Al risultato massimo Si pensa che Il risultato massimo Debba centrarlo L'anno dopo Presidente Come la mettiamo? Beh sì Sicuramente Una situazione Non semplice Per La situazione Che hai appena descritto E' chiaro Che ci sono Grosse aspettative In base a quello Che è stato il risultato Dell'anno scorso Che comunque Al di fuori del finale È stato Il miglior risultato Che siamo riusciti A portare a casa Nell'arco Della storia Del fano rugby Quindi sì Grosse aspettative È un bel peso Sulle spalle Per noi Per i ragazzi Per tutto lo staff La novità particolare Ecco a fianco con me Che è Franco Tonelli Non novità Nella storia Del fano rugby Ma come ruolo In quanto da quest'anno È direttore sportivo Alla guida Del club E è con noi Da tantissimi anni È una figura Che non era mai stata qua Ospite Sono contento Di averlo convinto A venire qua Perché È sicuramente È un viso Conosciuto in città Sotto l'aspetto Rugbistico E diciamo La novità di quest'anno Perché guida Tutta la parte sportiva Del club Quindi ripartiamo Sicuramente Con gli stessi Obiettivi Che c'erano Nelle precedenti stagioni Con la maturità Acquisita Soprattutto l'anno scorso Perché per la prima volta Abbiamo giocato Uno spareggio Anche con Una società Blasonata E quindi è stato Sicuramente Un qualcosa in più Che ci ha fatto crescere Non solo i ragazzi In campo Ma anche Tutta la parte Fuori dal campo Staff E dirigenza Come si presenta La squadra Tonelli Quante novità A partire dalla panchina Allora La panchina Abbiamo Cercato di rinnovare Un po' Di ringiovanire Io fin l'altro giorno Ero in panchina Infatti mi trovo Un po' Fuori dalla mia zona Di comfort A stare dietro La scrivania Quindi sono un po' In difficoltà Devo imparare Come tutte le cose In panchina Abbiamo dato spazio Un po' Ai giovani Ai ragazzi Che sono cresciuti Da noi Che hanno maturato Tanta esperienza E quindi abbiamo dato spazio Ad Andrea Nucci Come primo allenatore A coagliuato Da Michele Primavera E da Gasparini Alessandro E chiaramente Gli daremo una mano Io Ed anche altri Ex allenatori Insomma Cerchiamo un po' Di coinvolare Queste energie nuove Nella giusta direzione Però Sono ragazzi Che hanno già Maturato tanta esperienza E quindi siamo molto Tranquilli Da questo punto di vista La squadra invece? Eh Volevo dire un'altra cosa Abbiamo un nuovo Preparatore atletico E quindi anche lì Abbiamo Insomma Siamo positivi Ecco La squadra è una squadra Che deve trovare Gli equilibri Perché Rispetto allo scorso anno Sono Sono 6-7 giocatori Che per noi Erano importanti Uno scorso Che hanno fatto Delle scelte diverse Per lavoro Per l'università O eccetera Per cui abbiamo Inserito diversi giovani Dalle nostre giovanili Che provengono Dalle nostre under 18 E quindi Dobbiamo ritrovare Un po' Gli equilibri E trovare un po' L'amalgama giusta Però La qualità c'è Per cui Siamo molto fiduciosi Insomma Vogliamo riepilogare Di che campionato parliamo E qual è la formula? Sì Allora Forse la domanda Era più per Franco Però provo a rispondere Anch'io Il campionato di Serie C Regionale Che quest'anno Poi Franco Mi può correggere Rispetto allo scorso anno Porta delle modifiche Partiamo da una fase Regionale Quella successiva In base a come finirà la prima Sarà Poi fuori regione Quindi c'è una Differenza Che in realtà Abbiamo già sperimentato Anni fa Quindi non è per noi Una formula Nuova Invito Franco Se vuole aggiungere qualcosa C'è una prima fase regionale Poi dopo Le migliori qualificherate Andranno a fare Una seconda fase Con le migliori Umbre E le prime due Di questo secondo girone Poi andranno a fare Gli spareggi Con le Emigliane Come era poi L'anno scorso Abbiamo accennato All'avvicendamento Nella guida tecnica Vogliamo in qualche modo Congendare con la Iacomo Che ha guidato la squadra In queste stagioni Cosa vi ha portato Cosa ha aggiunto Allora Walter è stato per noi Una Tanta esperienza Un maestro Ecco Questa è la parola giusta Io e lui abbiamo collaborato Tanti anni In panchina Io mi occupavo Della misca E lui Dei tre quarti Ma abbiamo sempre Interagito Interagito Sì esatto E creato anche Delle situazioni favorevoli Nel senso che lui Ha una maniera di porsi Io un'altra Ma alla fine Diciamo le stesse cose In modo completamente opposto Vi compensavate Esatto Eravamo proprio Insomma ci compensavamo E niente Ci lascia un bel vuoto Perché bisogna dirlo Perché chiaramente Lui occupava tante cose Anche fuori dal campo E in questo Sarà difficile per noi Creare E andare a sostituirlo Ci dà una mano Sarà il primo allenatore A distanza Che ci aiuta Infatti i video Gli guarda lui Ci manda Diverse soluzioni Da adottare Eccetera Però ripeto Dal mio punto di vista Ogni volta che viene a meno Una risorsa Dobbiamo creare Un pool di ragazzi E di persone Che riescono a migliorare Quel che ci è mancato Per cui la sua mancanza E il lavoro Che faceva su lui È stato ripartito In diverse figure Per cui Insomma io penso Che riusciamo Spero a migliorare Di anno in anno Migliorare la nostra La nostra situazione E mi pare di intendere Che il poter contare Su un serbatoio A livello giovanile Ma anche Tecnico Per quello che riguarda Appunto la guida Della squadra Sia fondamentale Sì È un po' la nostra Filosofia La nostra filosofia È quella di creare Un club All'interno Dove Dare spazio E gratificare Le persone che si impegnano Sui vari fronti Quindi sia come allenatore Sia come giocatori Eccetera Qualche immagine Del campionato scorso Nel frattempo Campionato che affrontavate Con uno sponsor SPG Quest'anno La novità ulteriore Che di sponsor Ce ne sono due Ad SPG Si affianca TechFem Credo una novità Che salutate con grande entusiasmo Assolutamente sì TechFem Per chiarezza È già Sponsor Del fan rugby Da Credo più di dieci anni In precedenza L'accordo Ma comunque La loro attenzione Era sul settore Del mini rugby E il settore scolastico Quindi ci hanno sempre Sostenuto da tanto tempo Su questo Per quest'anno Abbiamo trovato Un accordo Anche per il discorso Seniores E quindi Diciamo È una continuità È un upgrade Da parte di TechFem Rispetto a quello Che già faceva SPG Ha rinnovato E quindi abbiamo Questa Duplice Title sponsor Sulla Sulla Seniores Quali argomenti usate Per convincere questi sponsor Premesso che nel caso di TechFem La partnership È consolidata Quanto gioca Il fatto Di essere rugby Prima di tutto E di avere appunto Di essersi dotati Di una certa filosofia Beh allora Senza nascondersi Poi dal fatto Che comunque C'è una risposta Ci deve essere una risposta In termini anche I risultati Perché Questo è servito Da quando è entrata SPG Come modo anche Per far maturare La prima squadra Che da squadra Come posso dire Un pochino più Amatoriale Ha acquisito Una Una diversa dimensione Un pochino più strutturata Perché comunque È uno sponsor Che mi dà il nome In prima squadra Quindi devo anche rispondere A lui di quello Che sto facendo Al di fuori Quindi i risultati Che chiaramente Sono diciamo Sul piatto Perché nello sport È così Funziona così È giusto che sia così C'è una questione Anche più Diciamo Di affinità Fra quelli che sono I principi Delle due ditte In questo caso E quello sportivo Della società Di rugby Della nostra società Quindi indubbiamente C'è anche questa voglia Di mettere un po' A braccetto Questo aspetto qua E la prima cosa richiesta È quella anche Del comportamento Di come approccio Al campionato Affinché sia qualcosa Che porta alto Il nome È l'onore Di queste due Aziende Quindi ci siamo Un po' Intavolati Abbiamo intavolato Il discorso Su questa cosa qua Quindi un buon approccio Intanto Sono professionale Nell'atteggiamento Cerco di fare il meglio E poi a un certo punto Faremo anche I conti Se siamo riusciti A soddisfare Quelle che erano Le aspettative Uno sponsor Uno sponsor Naturalmente apprezza Anche che ci sia Un settore giovanile Sviluppato Con una grande partecipazione Magari anche Da parte delle famiglie Credo sia il vostro caso Sì 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 Abbiamo tutte le categorie Dall'Andre 6 8 10 12 14 E poi arriviamo Alle 16 Alle 18 Di che volume Di ragazzi Parliamo Parliamo Sui 200 tesserati Non so Sbaglio Giorgio Sui 200 tesserati Complessivi Quindi comunque Un club abbastanza Interessante Come movimento Stiamo crescendo Stiamo facendo Un lavoro Mirato Alla crescita Di questi ragazzi Sia dal punto di vista Motorio E anche tecnico Ma finalizzato Poi chiaramente A non vincere oggi Ma a creare Dei giocatori Per il futuro E quindi Facciamo i passi Secondo noi Dal nostro punto di vista Giusti Per creare Un ambiente positivo E per creare Dei giocatori Che poi Quando saranno signori Sanno Un bagaglio Tecnico E fisico Importante Per poter Puntare qualcosa di più Di quello che stiamo puntando adesso Ne abbiamo parlato Già in passato Probabilmente Ma cosa spinge Un ragazzino Anche un bambino A scegliere il rugby Cosa lo affascina Dovremmo chiedere a loro E in effetti abbiamo Magari qualche volta Ne l'avete chiesto Ma l'affascina Secondo me È uno sport Dove il gruppo Conta più del singolo Per cui forse In una società Dove Si è Sempre interessati Alla persona Il fatto che conti più Il gruppo Che conti più Il senso di appartenenza Piuttosto che al singolo Per me È la chiave Vincente Questo non vuol dire Che il singolo Non ha possibilità Di esprimersi Anzi tutt'altro Però È nel contesto globale Che si evidenzia E quindi Sono sensazioni Che i ragazzi provano E una volta che si innamorano Difficilmente Difficilmente smettono Certe immagini Sono eloquenti A riguardo C'è sempre poi Da In qualche modo Sfatare Questo tabù Per cui Il rugby Comunque è uno sport Di contatto E che contatti E quindi magari Esporre un bambino A questo tipo di situazioni Può comportare Qualche rischio Cosa diciamo A riguardo Ma In realtà no Nel senso che Le tabelle assicurative Ci mettono A livello Di Di Infortuni La pallavolo È più rischiosa Del rugby Questo È quel che dicono Le tabelle È chiaro che Bisogna essere Preparati All'impatto Quindi è questo Che facciamo Chiaramente c'è Un contatto Però è ben Leggiferato Tra virgolette E anche Teniamo molto Anche a insegnare I nostri ragazzi Ad avere un comportamento Etico Da questo punto di vista E quindi Sì è vero Che uno sport di contatto Non lo possiamo negare Però non è uno sport più lento È uno sport di contatto È uno sport di Aggressività Tra virgolette Però in un contesto Comunque Di fair play E di E di buon senso E di buona educazione Ecco Nel fardo rugby colpisce Negli anni il fatto Che ci sia continuità In questa continuità Ovviamente Si cerchi di introdurre Anche l'elemento Di una crescita Graduale Senza fare mai Passi più lunghi Della gamba È così Sì Infatti Volevo aggiungere appunto E collegare il discorso Fatto prima Fra sponsor In questo caso La prima squadra Ma il discorso giovanile Il fatto di fare queste scelte È condiviso Apprezzato anche Da parte degli sponsor Cioè non chiediamo risorse Per acquistare Il giocatore Che arriva e risolve Che poi non è Spesso vero La situazione Ma è più un investimento Sulla qualità Che possiamo fornire Su tutta la linea Quindi anche sulla giovanile Affinché Con molta pazienza Ci arrivino un po' Di risultati In prima squadra In questa prima Parte della nostra storia Sicuramente Alcuni riscontri positivi Già li abbiamo apprezzati Perché come diceva Franco Parecchi ragazzi Che sono attualmente In prima squadra Sono ragazzi Che hanno fatto Quasi tutta la trafila Delle giovanili E la qualità sul campo Per quello che Il nostro contesto Si riscontra Ovviamente Questa filosofia Sarebbe sviluppabile Meglio In presenza Di una Di strutture All'altezza Degli obiettivi E della politica Che si intendono Appunto Per seguire Ora da questo punto di vista Il Fano Rugby Sta vivendo una situazione Diciamo così Anomala Nel senso che In corso di ristrutturazione Il Falcone Borsellino Che ha giochi fatti Dovrebbe Rappresentare un valore Aggiunto Indiscutibilmente Però ancora i lavori Non sono ultimati Nel frattempo Però voi vi siete ingegnati E vi siete dotati Di un campo In cui Svolgere L'attività Che altrimenti Non avreste potuto sviluppare E che Vi darà respiro Se non altro Fino a quando Il Falcone Borsellino Non sarà ultimato E a quel punto Costituirà una preziosa alternativa Ho inquadrato bene La situazione Per dargli il giusto Aggettivo Una situazione Un attimo Di difficoltà Essere onesti Ma non è che Lo mettiamo come Alibi Ma è semplicemente La descrizione Della realtà Perché Nel Mirino Abbiamo due impianti In gestione Uno è il Falcone Borsellino Che sarà Già in parte Stato Messo il sintetico Con tutta poi La parte intorno Che abbellirà E aumenterà Il valore Della struttura Sotto un aspetto Della fruibilità Dei ragazzi E tutto il resto E l'altro Invece È la struttura L'ex Valmetauro Che erano vecchi Campi da calcio Che in realtà È un processo Anche lì Molto lungo Partito da un paio D'anni indietro Di questa richiesta Ancora prima Di conoscere L'opportunità Di riqualificazione Del Falcone Borsellino Noi eravamo Già partiti Di tempo prima Cercando una struttura Che alleggerisse In qualche modo Il primo Manto da gioco Poi La burocrazia Sappiamo tutti Che spesso Rallenta queste cose Ci siamo trovati Non per colpa nostra Nel fine stagione Nell'estate A iniziare A risistemare Quest'altro impianto Quindi L'obiettivo È bellissimo Perché avremo Un campo in sintetico E due campi Da rugby In erba naturale Il primo Per certi tipi Di attività Il secondo Sicuramente Con due campi Utile A ospitare Tornei O tutte quelle attività Dove il doppio campo Diciamo Un gioco a favore Nel frattempo Possiamo vedere Come il fano rugby Ha trasformato La clubhouse Da che era stata Presa in consegna Allo stato Attuale State Credo Mettendo la stessa energia La stessa attenzione Nel riportare A regime L'impianto Della Valmetauro Che era abbandonato Al degrado Mi fa capire Sì Ma la filosofia È la stessa Anche le persone Sono le stesse Quindi Anche le braccia Sì sì Le persone Esatto Anche con le braccia In quel senso lì Quindi Quanto siamo riusciti A mettere A terra Sul Sul primo campo Diciamo Una questione Che penso Si sia sotto gli occhi Di tutti Stiamo facendo Anche sul secondo Sul secondo Siamo partiti Con delle Esigenze Di tempistiche Un pochino Più stringenti Rispetto al primo Dove C'era più tempo Invece qua Ci ha toccato Un pochino Correre Ma abbiamo Grandissime idee E stiamo cercando Di capire Con l'attuale Amministrazione Cosa possiamo Effettivamente fare Questa situazione Di difficoltà Quanto incide Nella preparazione Nella prima squadra E anche Nello sviluppare Il programma Dell'attività giovanile Allora Questo è fondamentale Per noi Abbiamo avuto Insomma Il fatto di non avere Una casa Ovviamente Che comporta Dei problemi Non indifferenti Per tutti Anche per i ragazzini Abbiamo istituito Una bus navetta Una bus navetta Il nostro Camioncino Che porta i ragazzi Dal Falcone Brusselino Allà Perché molti ragazzi Erano abituati A venire Nellamente in bicicletta Soprattutto quelli che Parliamo della zona Di Tombaccio Sì La zona di Tombaccio E quindi Cerchiamo di alleviare Un po' Le famiglie Il problema Dei trasporti Eccetera Però è chiaro Che avere Una struttura Efficiente Dove puoi fare Gli allenamenti In maniera costante È fondamentale Noi praticamente Da febbraio L'anno scorso Che siamo In giro Per i campi E questo Chiaramente non aiuta Perché bisogna portare Il materiale Da un posto All'altro Perché alcune cose Non si possono sviluppare Perché è difficile Insomma Però Ripeto Noi Guardiamo un po' Più avanti Ricordiamo che La data ufficiale Di conclusione Lavori Il Falcone Borsellino È novembre Ora Si sa che i tempi Dei lavori pubblici Non sono così Rigorosi Spereremo per la fine Anno sull'area Però Anche perché Nel frattempo Ci sono partite Da giocare in casa E voi la casa Appunto non la vedete Certo Allora Anzitutto Uno Possiamo permetterci Questa situazione Perché dobbiamo ammettere Che c'è Una Abbiamo giocatori E famiglie Che in qualche modo Hanno approcciato bene A questa situazione Dando una mano Piuttosto che lamentarsi Questo non è un fattore Da sottovalutare Perché È importante avere Anche coesione Alla risposta Che dice Ok sto comprendendo La scelta E la supporto Per quello diceva Franco Varie difficoltà Sono state comunque Accolte Con sostegno Tipico del rugby Da parte delle famiglie Piuttosto che Con critiche Oppure comunque Sono state critiche Costruttive Quindi abbiamo cercato Di mettere La navetta Come diceva Franco Per chi ha effettivamente Difficoltà E stiamo andando davanti La scadenza Di fine novembre Del cantiere Penso che chiaramente Non potrà essere rispettata Perché oggettivamente Ci sono ancora Dei lavori Che devono essere fatti Quindi slitterà Stiamo cercando di capire Insieme agli organi competenti Il ritardo A quanto ammonta Perché chiaramente Per noi Abbiamo un po' Fatto la bocca Sul fatto di rientrarci A metà stagione sportiva Più o meno Vorremmo capire Se questa idea Che ci siamo fatti È così Intanto c'è un particolare motivo D'orgoglio Perché un giocatore Del fanoregby È salito in Serie A Esatto Un ragazzo che ha fatto Tutte le nostre Trafila Nelle nostre giovanili Quest'anno è stato Andato a giocare Nel Viadana 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 E questo è anche L'inizio di una collaborazione Con Viadana Che ci può aiutare Perché chiaramente Il club più strutturato Ci aiuta Nelle varie Su tutto praticamente I nostri allenatori Potranno andare là A fare delle esperienze Loro verranno qua A vedere cosa facciamo E quindi è partita Questa collaborazione Che è fonte Di grosso orgoglio Da parte nostra Nel frattempo Sabato Presentazione ufficiale Nella sede di TechFem Grazie a Franco Tonelli Direttore sportivo Dell'SBG TechFem Fano Rugby Grazie al presidente Giorgio Brunacci Grazie a tutti voi Per averci seguito Vi aspettiamo La settimana prossima Grazie a tutti i nostri allenatori 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 Grazie a tutti i nostri allenatori